Io sono arrivato qui tramite il comune di San Giovanni Valdarno perché avevo uno sfratto esecutivo e stavo finendo in mezzo alla strada quando all'ultimo momento è venuto fuori questo alloggio. Quanto doveva pagare? All'inizio quando sono entrato qui pagavo 330 euro mensili e adesso siamo arrivati a pagarne 705,46. Con un alloggio pieno di infiltrazioni, con l'arredamento completamente da buttare, manutenzione esterna inesistente, crolla tutto, a me mi devono dire da dove tirano fuori cifre di 705 euro mensili. Infiltrazioni di acqua, umidità, presenza di topi e degrado, questo denunciano da mesi gli inquilini di questi immobili che si trovano in località cetinale nel comune di San Giovanni Valdarno. Sono di proprietà di Arezzo Casa la partecipata dai comuni di tutto l'Aretino, ma queste non sono case popolari, bensì abitazioni ad affitto calmierato, un canone cioè più basso rispetto a quello di mercato, che se aggiunto ai consumi arriva in alcuni casi anche a 1000 euro al mese. Diciamo al canone veniva aggiunta sempre una somma a titolo di consumi, perché ero ben consapevole che ci sarebbe stato il metano e l'acqua in comune con gli altri condomini, però un conguaglio di una quota fissa che si aggira intorno ai 700 euro mensili, motivo per cui il pagamento in realtà corrispondeva a una cifra tra i 1900 e i 1034 euro, impossibile per me da sostenere. Alla situazione di degrado denunciata dai condomini, da fine agosto si è aggiunto il problema del non funzionamento della centrale termica, quindi famiglie con anziani e minori sono senza acqua calda e riscaldamento. E così i condomini hanno deciso, come forma di protesta, di smettere di pagare. L'alloggio da subito è risultato invivibile sotto vari aspetti, per il degrado, per la muffa, l'umidità, quindi non alloggio adatti anche ad ospitare una famiglia con dei minori. Siamo stati più volte in maniera individuale a rappresentare la situazione, però siamo andati avanti in questo silenzio, in questa sorta di omertà e chiaramente non avendo alternative siamo rimasti qui e l'unica arma è stata quella di smettere di pagare, quindi ora ci vengono contestate queste morosità che di fatto esistono, ma esistono perché non siamo mai stati messi in condizioni di pagare, di vivere in maniera dignitosa. Una situazione ben nota anche all'amministrazione comunale che ha incontrato alcuni degli inquilini. Stiamo seguendo la questione da tempo, ci conferma il sindaco Valentina Vadi. Già una prima lettera era stata inviata ad Arezzo Casa il 27 settembre. Inoltre, lo scorso 24 ottobre abbiamo avviato un procedimento nei riguardi di Arezzo Casa per far sì che possa ottemperare alla manutenzione straordinaria di sua competenza. Questo dopo il sopralluogo ASL effettuato in data 11 ottobre in seguito alla segnalazione di alcuni condomini. Voi come Movimento 5 Stelle porterete la questione in Consiglio Comunale? Sì, noi portiamo la questione in Consiglio Comunale tramite un'interrogazione. Intanto partiamo da quella e poi arrivare anche ad Arezzo Casa che si deve prendere la responsabilità del degrado in cui vivono perché sinceramente avere degli affitti che sfiorano dei valori che potrebbero essere tranquillamente quelli del centro storico di una grande città. Siamo in periferia fra due comuni in una zona dimenticata da tutti è assurdo anche le spese che loro stanno sostenendo. Arezzo Casa ha confermato che l'azienda si sta muovendo verso una precisa direzione entro il 15 novembre sarà ripristinata la porta della centrale termica nomineremo, dice l'azienda, un responsabile colui cioè che avrà l'accesso esclusivo alla caldaia e successivamente provvederemo a rimetterla in sesto.